No, sto andando... cioè ti vedo ma non sto andando a te, sto andando al coso di bambù per vedere se ha funzionato ed è cresciuto qualcosa. Oddio! Cosa cazzo... scusami... sto vedendo un animale strano. È un cavallo quel rogo lì? O è sponato... è sponato... Oh cazzo! Cazzo 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 cazzo! Allora, era sponato un cavallo zombie da... Si sono ammazzati... allora... il cavallo zombie è stato colpito da un fulmine, ora sono tre, con in sella tre scheletri con tutta roba incantata. Non chiedermi cosa ho appena visto.